Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi tutto a posto, vero? Non ci sono polemiche da fare, non c'è da fare i titoloni come hanno continuato nonostante che il loro direttore ha preso un calcio nel culo e mi riferisco chiaramente a tutto sport. Tutto a posto, vero? Perché chiaramente le prime pagine sono dedicate a Indica, al quale facciamo i nostri migliori auguri nel nostro piccolo perché quando ci sono questi problemi e noi da tifosi l'abbiamo vissuto sulla, non dico sulla nostra pelle perché è sulla pelle di Eriksen, però comunque l'abbiamo nel nostro umore, abbiamo visto una situazione brutta e quindi l'abbiamo un po' vissuta. Però dico tutto a posto, non ci sono problemi, vero? No, perché ieri se quel gol dove smanacca per divincolarsi. Rivedo e lo sfioricchia. Però il rigore dopo per noi non era buono. Però poi c'era il problema della rimessa. E la cosa assurda che ieri, meno male che Pardo ha subito chetato gli animi, stranamente devo dire, perché già in diretta c'era la polemica del rigore concesso all'Inter che nasceva, che poi non nasceva, da un calcio d'angolo che non c'era perché effettivamente Frattesi ritocca la palla. Quindi quel calcio d'angolo lì non c'era e c'era una rimessa. Peccato che poi Pardo ha detto, sì, ma il rigore non nasce dal calcio d'angolo. Cioè non è che c'è un calcio d'angolo con la palla che va in area, viene toccata la palla di mano e di lì nasce il rigore. Perché lì c'è stato il calcio d'angolo, l'Uvumbu la spazza via, torniamo in attacco, quindi è una nuova azione che riparte da zero e quindi il rigore è rigore perché c'è rigore, punto. Però alla mano di Lappadula va tutto bene, vero ragazzi? Vabbè, ormai abbiamo capito come funziona un po' tutto la situazione mediatica intorno all'Inter. Però bisogna dire che ieri ragazzi in difesa sono stati un po' troppo leggerini. Mi è parso che dopo il 2-1 ormai avevamo la convinzione di avere il risultato in cassaforte e quindi si giocavano un po' più leggeri. È normale che dagli spalti parta il coro, vinceremo o vinceremo il tricolor. Perché ormai è assodato che o lunedì o domenica prossima è vinto, per carità. Siamo un po' come l'anno scorso il Napoli. Ieri parlavo con Pier dopo la partita e gli ho detto guarda, per il mio punto di vista meglio così. Perché se devo regalare un punto preferisco regalarla al Cagliari di Mister Ranieri, perché fra le squadre che lottano per la retrocessione, per salvarsi dalla retrocessione, è quello che forse mi sta meno antipatico. Ma soprattutto perché perlomeno si arriva al derby dove non abbiamo due risultati su tre, ma ne abbiamo uno per schiaffiarli in faccia allo scudetto. È la cosa migliore, perché entriamo col sangue agli occhi, cerchiamo di vincere il sesto derby di fila, gli facciamo capire che da tre anni a questa parte c'è poca trippa per loro, da due anni proprio non ce n'è, e gli schiaffiamo un faccia allo scudetto della seconda stella. perché col doppio risultato magari poi arrivi all'ottantesimo, sullo 0-0, sull'1-1, inizia la testa a andare a quella cosa là, prendi il gol in fondo e quelli ti perculano a vita. Invece io voglio perculare loro a vita. Come hanno detto in tanti, il Milan doveva cercare di vincere con il Sassuolo, per di più con l'Inter che non avrebbe vinto poi dopo con il Cagliari, per evitare l'onta dello scudetto schiaffato in faccia a fine partita. Quindi una settimana piena per preparare la partita, tutti gli effettivi in campo, il delirio che ha fatto Pavard sul 2-1 rappresenta quella che è l'unità dello spogliatoio quest'anno, quindi con il rispetto ma non con la paura, non con il timore di affrontare un derby e vi ripeto, secondo me con il risultato attuale anche meglio, perché perlomeno vi ripeto, arriviamo con un solo risultato e dobbiamo puntare a quello, vincere e chiudergli in faccia. partita, come dicono nel tennis, game set partita. Quindi partita, scudetto, terza, seconda stella. Detto questo ragazzi, sabato avevo fatto un video perché era venuto fuori l'articolo del Corsera sulla possibile cessione a un gruppo arabo. Ieri sulla gazzetta, due pagine, ben due pagine, dove si parla di un probabile fondo britannico che sia pronto a finanziare l'Inter, o meglio finanziare la famiglia Zan per restituire il prestito di Octree e lasciargli 25.000 euro. Ora io ho già visto partire discorsi tipo non ha le garanzie, allora ragazzi la garanzia rimane l'Inter, perché chiaramente che cosa cazzo farebbe Zan? Direbbe a questo fondo qui, te dammi 375.000 euro, che nome li dai a me? Praticamente va da questi, si fa finanziare 400.000 euro, questi scrivono un pegno di terzo grado a questo punto, che è dietro Glass Trust e Octree, prendono i soldi, loro direttamente li danno a Octree, non li danno a Grand Tower, li danno a Octree, gli dicono guarda questi sono 375.000 euro, liberami il pegno, Octree libera il pegno e il pegno che è di terzo grado diventa automaticamente di primo, questo per spiegarmi tecnicamente come potrebbe avvenire il discorso con la garanzia. È un'operazione fattibile? In 30 giorni secondo me no, perché deve essere fatta tutta un'analisi, tutta una verifica, tutto un controllo, a meno che non sia tutto pronto e messo in ghiacciaia dicendo questa è l'operazione ultima, nel senso l'ultima carta che mi gioco, il famoso asso nella manica, ma questo asso nella manica fosse giocato per l'Inter, sarebbe un bene o sarebbe un male? Io non vi parlo, rimane Zang e bene, rimane Zang e male, questa operazione sarebbe un bene o sarebbe un male? E vi rispondo io, sarebbe un male? Perché Zang non ha capacità di rifinanziare e di rimpolpare il patrimonio dell'Inter. Zang non ha capacità di fare un mercato in deficit perché vi ricordo che noi col settlement agreement non possiamo fare mercato in deficit a meno che non ci sia l'intervento della proprietà e Zang non può intervenire. Quindi tutto questo sarebbe un male per l'Inter perché ci si troverebbe a fare un mercato vendendo un big come negli ultimi tre anni e questa è la prima cosa. La seconda cosa, l'Inter che sicuramente chiuderà un bilancio in perdita, perché è indubbio che chiuderà un bilancio in perdita, al netto dei soldi che dovrebbero essere ancora sul conto di Grand Tower, bisognerebbe arrivare a capire prima di tutto quanti sono questi e soprattutto quello che ci può fare Zang. Perché? Mettiamo che ci sono 70 milioni di euro, più 25 che gli rimarrebbero dal nuovo prestito, gli rimangono 100 milioni. Se ti hai una perdita di 50, prima di tutto devi ripienare la perdita di 50 e poi il patrimonio netto come cazzo lo chiudi? Perché va ricostituito il capitale sociale e qui non c'è la disponibilità finanziaria. Ma oltre a questo, che è un secondo aspetto negativo, l'ultimo aspetto negativo è quello che comunque sia la famiglia Zang non potrebbe intervenire sul problema più grosso che ha l'Inter, ovvero quello della liquidità. Perché l'Inter è in carenza di liquidità e il socio di maggioranza non può immettere liquidità. Quindi sarebbe un Arachiri? Sì. Poi Zang fa quest'operazione. Domani mattina Xi Jinping con tutti i casini che ci sono anche in medioerente decide di riaprire all'estero. Zang in patria ha 100 milioni da poter immettere nell'Inter e la sua azione si ribalta un'altra volta. Però sono scenari molto fantascientifici. Oppure le due cose vanno all'unisono. Ovvero Oktrin non ti dà più tempo. Te hai trovato l'acquirente arabo, vuoi vendere te, hai già l'accordo, l'acquirente arabo ha bisogno di sei mesi che Oktrin non ti dà, ti rifinanzi, quello che ti finanzia sa che c'è già il compratore in questo caso, non come dicevano in tanti che Oktrin ha dato i soldi a Zang sapendo che c'era già il compratore, perché hanno comunque sia trovato un accordo e fai un'operazione si chiama operazione ponte per passare da Oktrin al nuovo compratore perché te hai già tutto apparecchiato e tutto pronto. Allora in quel caso è un'operazione che all'Inter conviene? Sì. Perché a me quello che fa Zang, che convenga Zang, fotte cazzo ragazzi. Quello che mi interessa è che quello che fa Zang sia funzionale per l'Inter. Comunque vediamo un po' quello che succede, se ci sono altre novità faremo altri video, tanto nella settimana siamo un attimino più tranquilli. Venerdì confermata salvo ulteriori problemi come abbiamo avuto la scorsa settimana, la live settimanale. Stiamo cercando di metterci in contatto con degli youtuber per farli salire. Doveva salirne uno venerdì, poi chiaramente anticipandolo al giovedì e ognuno ha i suoi problemi e veniamo di portarvi qualche ospite sul canale per vedere di farci crescere. Mi raccomando ragazzi con le iscrizioni, vogliamo arrivare alla monetizzazione ci servono mille iscritti, quindi cercate di condividere il canale, avete visto che cerchiamo di essere sempre equilibrati ma non con le fette di prosciutto e portando sempre avanti il nostro amore che è quello verso l'Inter. Buona giornata ragazzi!